Diciamo che visto i tempi di Di Maio, che ci ha messo 5 anni a chiedere scusa a oggetti, io sono giovane e confido che tra 5 anni Di Maio arrivi a chiedere scusa anche a me e non soltanto a me, anche alla mia famiglia, perché ricordo che sul caso Etruria comunque mio padre è stato archiviato e io non c'entravo, non sono mai stata oggetto nemmeno di indagine, ma non soltanto a me, penso chiedere scusa anche per tante frasi che ha pronunciato sul Jobs Act, sulle riforme che abbiamo portato avanti quando eravamo al governo e che lui ha contestato con toni molto duri e spero che cambi idea anche su quello. Lo dico con amarezza, però meglio tardi che mai. Il banco di prova, non sono le dichiarazioni sui giornali, il banco di prova sarà la riforma della giustizia che dobbiamo discutere in Parlamento, ne abbiamo la riforma del processo penale adesso alla Camera, allora se davvero si è cambiato linea sul garantismo, sulla prescrizione, su tanti temi, lo vediamo. Mettete son...